Qualità che dura nel tempo L'azienda produce serramenti in alluminio e manufatti in ferro per il settore edilizio, architettonico e privato e operi di blindatura per banche e uffici. Nata nel 1992, dopo un'esperienza trentennale, l'azienda Conero Infissi, in continua espansione e innovazione, si distingue per l'alta professionalità, precisione, assistenza e consulenza al cliente e per il personale tecnico e operativo. Nel 2001, l'azienda ha aperto uno showroom a torrette di Ancona, nel quale, oltre alla propria produzione, commercializza tutti i generi di infissi in legno PVC, legno alluminio, porte interne in legno e alluminio, porte blindate, cancelletti e infissi di sicurezza, ma anche pareti mobili e attrezzate, zanzariere e complementi di arredo. Grazie a tutti.